Mi chiamo Giovanni Losurdo, sono un fisico e da molti anni mi dedico allo studio dell'universo attraverso le onde gravitazionali. Mi occupo quindi di ricerca fondamentale, quella che nasce dall'aspirazione ancestrale dell'essere umano a comprendere la natura e le sue leggi. Da scienziati ci confrontiamo continuamente con l'ignoto e ogni volta che troviamo una risposta nuove domande scaturiscono da essa. È un processo continuo in cui ritroviamo nella capacità di conoscere l'essenza stessa del nostro essere umani, esseri capaci di percepire la propria piccolezza dinanzi all'immensità del cosmo e allo stesso tempo di osare la sfida di comprenderne la natura. La ricerca ci insegna a tracciare strade nuove, ad immaginare soluzioni inedite a problemi complessi e a gestire l'inatteso e ci prepara anche così a comprendere e ad affrontare le grandi crisi come quella della pandemia o quella epocale del cambiamento climatico. Investire in modo sostanziale in ricerca vuol dire programmare il futuro di un paese e contribuire a salvaguardare quello dell'intero pianeta e questo è il momento giusto per farlo.